Ne parleremo nel merito perché il minibot è uno strumento, è un mezzo, non un fine. Il ministro Tria in queste ore è impegnato in Lussemburgo e quindi non lo disturbo. La settimana prossima sicuramente gli chiediamo se ha idee più efficienti ed efficaci per pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati, siano essi imprese o famiglie. Se ha un'idea più brillante la sottoponga, altrimenti quello è uno strumento che è previsto sia nel contratto di governo che in un documento approvato all'unanimità dal Parlamento italiano. Quindi io da ministro non devo dire se una cosa mi piace o non ci piace, se me la chiede il Parlamento la faccio. Ripeto, non essendo appassionato ai mezzi ma ai fini, se riusciamo a rimettere in circolazione nei tempi dovuti i miliardi di euro che in questo momento sono congelati, se ci sono idee più intelligenti benvengano. Grazie. Grazie.